Bella a tutti i saldozzini, benvenuti in questo nuovo video Vi do un piccolo spoiler del mondo dove siamo per andare C'è raga Certo Vale, certo, certo Andiamo al mare Non lo so per cosa stanno andiamo al mare Vale Ce la fai ad entrare da solo? Controlla Aspetta, devo creare, crea Ok, vai a vedere Vale, manco stai controllando Allora Ci sono? No, ma perché parla delle volpi solo per quello Veramente parla degli animali, eh? Cioè Vale è brutto, non è che sia così tanto bello come tu credi Lo sapevi che le stelle del Meder non possono essere distrutte dalle esplosioni? Esistono 3587 specie di pesci tropicali Infatti dopo lo vedremo nel prossimo video Uso il letto come punto di recena a recena Usare fuoco di riportazione Solo devi sicuramente Ammazza quanto ci metti Cioè tu stai ancora entrando? E' pure io Generazione del mondo io Oh, sono entrato Sapete che cosa dovrei trovare? Un mondo con Lunar Ma chi sei tu? No, Valerio Io non spoilerò Ma ci dobbiamo Ma ci dobbiamo buttare Dime quando si ci mette un po' eh Ma è bugato No, aspettate Prima di dirlo Voglio controllare Ma non siamo Ma sei nel mio mondo? C'è una barriera No Ti devo seguire a me? Solo che sono Vale E il tizio sta andando avanti Però Ti do Dai un piccolo spoiler Arctic Villager C'è una scuola magica Che belle ste sedie Edo mi manca un mega Ma tu mica ti stai unando al mio Vabbè registro da solo Ma mica devi scaricare il mondo Non è vero Non è vero Aspetta Entra nell'invito Vale Sei al caricamento Ma il tizio sta andando avanti Sta parlando Vabbè ti seguo Vai parla Cosa uso? Raga io voglio andare in questa Ah no Noi siamo qua Però questo è bello Ammetterei Eh però Vabbè da solo Ok ti aspetto Io comunque Eccoti Sei entrato comunque Vale Mi ha copiato la skin Ah no Ok Ci sei? Io ti vedo Quindi praticamente Sei dentro Vale Affacciati Ci sono blocchi Invisibili Vieni Tieni la mappa Vale Qui c'è la mappa No Dobbiamo andare avanti Perché lui sta parlando Corri corri Ci sta dicendo qualcosa Vieni vieni Vale Uh posso portare Ah no Posso spaccare D'ora in poi Ah è diventata normale Ha finito di parlare Vabbè andiamo avanti noi Lo esploriamo Ora vieni Scendiamo Vale Stiamo vicini C'era uno che ti descriveva tutto Ah cacchia Pensavo di avere Come fanno a fare le foto Ci sono le RN Uh armatura per me What? Mi ha dato Raga ma Ma non si può prendere Quello Ahia È uno zombie Io esco Ciao Sostenere Esci vale Ma sto morendo io Vabbè ciao Ed ho preso l'elmetto Ed ho preso l'elmetto Ed anche l'armor stand Ed vabbè Ed mo la molla La molla per l'armor stand Ma non stiamo 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 Un pinguino E non mi prendere Amore Sì Ti vediamo l'armatura Ti do un cofre Guarda c'è un pinguino C'è pure la Due pinguini No Il gufo La volpe Amore no C'è una volpe C'è una volpe Vale A me mi attrae molto La cosa che abbiamo di fronte La rinne Ti prego Ci posso salire La voglio destrare Dimmi se non metti ansia A sto coso No Guarda che ho trovato L'arena Vale Sono sull'arena Non è un'arena È un lama Ma ti immagini Se vola Ma volano Ma saltano un botto Ma no È un cavallo Perché salta tanto Perché c'è una Sì ora sì C'è una Stiamo già registrando C'è una fenice C'era il simbolo Della Perché qui tu Prendi danno Ma Ma perché Prendi danno Cucciolo Vale Aiuto Aiuto Scappa 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 C'è un brutto Ma che sono Non lo so Vabbè ragazzi Questa è la mappa Parte 1 E ci vediamo Ragazzi Ciao